Il 12 novembre, in occasione della Notte dei Ricercatori Abruzzo 2014, sarà a Lanciano, presso l'Officina Storica della San Gritana, Maurizio Martina, Ministro di Agricoltura con delega l'Expo 2015. Tu hai la possibilità di rivolgere al Ministro una domanda sul tema e il futuro dei giovani nelle professioni della terra. Cosa vuoi chiedere al Ministro? Signor Ministro, noi giovani avvertiamo la necessità di fare esperienze in azienda. Qualcosa già si realizza con l'alternanza, ma queste occasioni sono limitate nel tempo e nel significato a causa delle poche aziende che si rendono disponibili a collaborare. Si può fare di meglio? Mi chiamo Ferretti Fabio, ho 17 anni e frequento il quarto anno dell'Istituto Tecnico Agrario Cosimo Ridolf.